La serata conclusiva di questa campagna elettorale 2019, com'è andata? Bene, è stata una cavalcata bellissima, un'avventura stupenda, come 5 anni fa. Pensavo di emozionarmi meno, perché oramai sono un po' invecchiato in confronto a 5 anni fa, in realtà è stata una cosa bellissima. Mi è stato emozionante andare a quello che è stato fatto in questi anni, in mezzo alla gente, a parlare con le persone, abbiamo fatto tutte le nuove frazioni, abbiamo parlato dei problemi, abbiamo presentato il nostro programma, ma soprattutto ho trovato una squadra motivata, ragazzi che hanno voglia di fare, ragazzi che credono nel cambiamento di Sant'Olcesa, il nostro progetto che è iniziato 5 anni fa, e poi la cosa più bella è quando le persone ti ringraziano per strada. In questo momento vuol dire che è stato apprezzato quello che è stato fatto, non bisogna sedersi, bisogna andare avanti, bisogna continuare sempre comunque a mantenere quelle che sono le prospettive per il nostro comune, non dei sogni nel cassetto, ma in qualcosa che poi diventi tangibile in realtà. E quindi noi l'abbiamo fatto e continueremo a credere, se la gente ci darà fiducia, in questo che è il nostro slogan, è questo, a ritmo di Armand, vuol dire tutti i giorni, in mezzo alla gente e con la gente, mantenendo sempre alta l'adrenalina.